Lo sport per mettersi in gioco e superare i propri limiti. E' quello che ha fatto Annalisa Minetti, la bellissima cantante e atleta parolimpica italiana che a soli 18 anni ha scoperto di essere ammalata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che l'hanno portata ad una graduale cecità, fino a farle vedere solo luce d'ombre di giorno e nulla di notte. Annalisa Minetti non ha accettato le barriere che la sua condizione le imponeva e così ha partecipato con successo a Miss Italia nel 1997, l'anno dopo al Festival di Sanremo. vincendo sia la categoria nuove proposte sia quella principale. Una donna che cerca sempre di superare i propri limiti, affrontando sfide sempre nuove come quella delle Olimpiadi dove nel 2012 a Londra conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri, stabilendo il record del mondo nella categoria ciechi. E quindi chi meglio di lei da avere quale testimonial alla cerimonia di chiusura di Ginnastichiamo, il progetto nazionale di educazione allo sport per over 60, patrocinato e finanziato a Pizzo dall'amministrazione Callipo? Mettersi in gioco dalla possibilità di superare i limiti con leggerezza, con entusiasmo e con grande energia. Lo sport rimane un momento di aggregazione e di divertimento? Lo sport è un momento di aggregazione, è un momento chiaramente di divertimento che dovrebbe essere profuso fin dall'età più tenera, quindi dalla scuola materna in poi, perché dà anche molta più sicurezza ed equilibrio alle persone che poi lo vanno a vivere. Quindi è un grandissimo atteggiamento intelligente per poter dimostrare alle persone con quanta semplicità si può arrivare alla propria certezza, alla propria convinzione di se stessi. Quello che fa l'Accademia è far ritornare questa convinzione a persona a cui comunque era stato raccontato un percorso diverso. Sei anziano e quindi non puoi più fare delle cose. L'Accademia dimostra esattamente il contrario, proprio perché hai un'età avanzata devi fare delle cose per vivere al meglio la tua vita e vivere da protagonista e non da comparsa.